E a zio Carlo con 99 euro un bel videofonino 3. Ma non lo vediamo da 10 anni. Così finalmente lo vediamo. E anche a zia Clara. È un po' dura d'orecchi. Così può parlare a gesti, no? E per Anna? Chi? Quella che parla pure quando dorme? Papà. Un videofonino 3. Così parla una cifra e spende poco. A Natale regala un videofonino 3 a partire da 99 euro. Ma quanti ne hai comprati? Meglio a piedi. Merry Christmas.